Grazie. Anche qui, grazie. Giusto, due parole che ti hanno. La prima è scontata. Come stai? Tutto sta procedendo molto bene. Ci siamo posti una data di rientro che è metà gennaio, quindi... Senti, parlando con tanti tuoi colleghi delle varie nazionali, tutti mi hanno detto, da chi ha andossato una calottina della palla nuoto, una canottiera che può essere quella della palla a canestro, una divisa della nazionale, mi hanno detto quando indossiamo qui la maglia azzurra scatta qualcosa. La prima sensazione sono i brividi. La tua sensazione nazionale? I brividi perché rappresenti la tua nazione. Poi devo dire che ciò che ha fatto la differenza all'europeo è stata la posizione del gruppo, da aiutarsi l'uno per l'altro, che risalta anche il singolo. Quindi è stato l'ingredente principale proprio il gruppo. Gatano, cosa dirti? Tanti auguri. Speriamo che prestissimo tutt'ora di essere. Adesso ci sono questi nuovi gerghi, il todocampista più completo d'Italia. Buona fortuna e bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. Sta arrivando anche l'assessore Puccione. Volevo ringraziare anche la Fiorentina perché so che non è semplice poi liberare gli atleti anche se fate...